Benvenuti a questa bella manifestazione Avis in bici e bimbi in bici. Una pedalata ecologica promossa per le vie della città, con l'obiettivo di diffondere il messaggio di quanto sia importante adottare uno stile di vita sano e praticare attività motoria. Il gruppo sportivo ciclo Avis di Andrea ha organizzato la dodicesima edizione di Avis in bici, un evento che è poi confluito e che si è ben amalgamato con la manifestazione Bimbi in bici, un'iniziativa promossa a livello nazionale dalla FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Noi siamo Avis, per essere donatori di sangue volontari bisogna stare in buona salute e quale attività meglio dello sport e soprattutto la bicicletta per mantenersi in buona salute. Un piccolo gesto può rivelarsi essenziale. La manifestazione sportiva Avis in bici rappresenta infatti anche l'occasione per rimarcare l'importanza della donazione di sangue. Le donazioni a metà anno seguono il trend degli anni precedenti. Quest'anno abbiamo ripreso i contatti con le scuole dell'infanzia, primaria e media, per cui dovremmo incrementare quest'anno, alla fine dell'anno, i numeri degli anni precedenti che sono sempre stati soddisfacenti. È importante in questo momento partecipare perché sappiamo tutti che durante i mesi estivi la gente si muove di più, si svuotano le città, però muovendosi magari ci sono esigenze maggiori. Per cui l'invito che noi facciamo è quello di recarsi presso il centro sfusionale dell'ospedale prima di andare in vacanza, in modo che qualora, caso mai, dovesse essere un'emergenza, non ci troviamo in difficoltà nel sostenere le attività dell'ospedale di Andria e delle città limitrofe.